Inizio della seconda parte del primo tempo, San Cataldese Folgore col punteggio di 0 a 0. Inizio della seconda parte del primo tempo, San Cataldese Folgore. 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 Grazie. 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 Dai, Bruno. Grazie. Adesso è il tempo. Sì, sì. Adesso è il tempo. Sì, bravo. Ah, sì. Ma c***o! Lei ci apparebbe una stanza dal chiesa senza te. Poco prelanda in questa ultima parte di primo tempo. Bravo! 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 E' lato chiesa molto, oi, poco giù la. E' lato a lungo, oi, poco giù la. door. Perché è lì? Qui ci sono? No! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti